Ooooooooooooo Ah, ciao ragazzi! Li sentite i lupi nel cuore della notte? Io sento, se è uno, soltanto la cosa poi si è successo in questo cuore della notte! E si tratta dei Power conventioni! Com'è non avete capito, hanno avuto fatto uscire un nuovo siglino... 1599 Ne approfitto oggi in questa atmosfera un po' fino a destra per salutare i followers di questo settimana che mi sono supportato a me su Instagram Nicola Florida Nicola Florida è un grande amico per me che ha supportato anche sul canale e che è una grande amante di Power Wolf e quindi io vi trovo una perché quindi il tempo stringe essendo un grande amante di Power Wolf Nicola Florida è nel mio canale e quindi è il futuro di questa settimana perché io mi ricordo questo, un giorno con lui sarà un piccolo video in cui andremo ad abbossare una cosa ma per questo dobbiamo aspettare il 26 luglio 2024 e quindi grazie Nicola Florida per esercitare da questa mortese, direi procedere alla reaction di cui questo è un uomo, il paolo da un tempo molto attraverso il risultato dei doppi e quindi ci stai dicendo di andare a fare questa reaction 1000 FIRE DINANTE SIGLA Ciao a tutti amici, sono il vostro Giuseppe Pola di Teatro e Solgale Nova 3 e benvenuti in questa nuova reaction e beh sì, li avete sentiti anche fuori, i lupi annulato nel questo pieno cuore della notte e avete sentito che i Power Wolf or Mai sono arrivati con questo nuovo singolo che ha annunciato anche l'arrivo del nuovo album che è questo qui Wake Up in the Weekend, ragazzi non vedo, mamma mia la canzone del singolo in questione è 100589 raga io non ve l'ho vista di ascoltarla perché non me la voglio perdere perché mi sono scaricato alle 4 del mattino ma fatemi sapere anche voi se mi stanno piacendo i Power Wolf, anzi se mi piace questa nuova canzone di Power Wolf mi diamo ancora di più questo, questo, questo brivido, fatemelo sapere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi e lasciate un bel mi piace a questo video, ladies and gentlemen, me la so scaricata pure alle 4 del mattino e ce n'è se n'è conto, direi che con questa bella monster bianca alla mano di iniziare a sentire la canzone nuova dei Power Wolf, 3, 2, 1 ma e con questo motivo ringrazio anche Nicola Florida come ho detto prima, ringrazio anche prima, andiamoci a sentire, 10589 Power Wolf mi piace madonna madonna mia wonderful santạt accnin gestione ma 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 man man pani è commemor sentite come poppa spacca che devo dire di più questo raga 1589 in the name of the high and mighty 1589 in the name of the high and mighty Oh! Preciso! Matthew Graywolf, sentitelo! What's your favourite song? What's going on? Allora 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 Mamma mia che cazzone Mi sa che questo album Sarà una vera cannonata Come lo sono stati per tutti gli altri Beh allora Io non so cosa dire La canzone mi piaceva morire Mamma mia ragazzi Vi lascio anche in descrizione Sia la canzone questa qui Ma vi lascio anche in link Anche l'ufficial video Raga Mamma mia che canzone Mamma mia Raga io sto senza parole Allora io vi dico Ve lo dico già subito Io Secondo me Farei un video insieme a Nicola Florida Che è questo amico mio grandissimo Che ha supporto tantissimo Instagram Perché mi piacciono dei suoi Power Wolf E lui c'è tanto affezionato Come lo sono affezionato io A questo giro direi che Se lui va bene Io spero Propriamente di sì Di portare un unboxing insieme Lo facciamo anche attraverso Una video di chiamata Tanto dopo posso anche registrare lo schermo Senza problemi E ragazzi Io non vedo l'ora Mamma mia Mamma mia Beh ragazzi Allora che dire Questo album qui Wake Up in the Weekend Esce il 26 di luglio Io vi lascio in descrizione AMP Per preordinarlo Perché E di ordinarlo Infatti Fatelo in tanti Perché questo disco È una cannonata Io non me lo riprendo pure Io riprendo Non vedo l'ora Mamma mia Oh sì Ragazzi che bello Mamma mia Mamma mia Sì sto dicendo un po' troppo Mamma mia Sì lo so Però ragazzi Io non vedo l'ora che esca Perché questo qua 26 di luglio Ragazzi Allora Ammanti dei Power Wolf Ammanti di tutti Questa grande cannonata di band Vi lascio proprio qui Questo disco Questa bella copertina Ragazzi Beh Direi che dire Il 26 di luglio Esce Non perdetevo Io non vedo di prendermi Sia il cd Che la t-shirt Nettiamo le cose in chiaro Ragazzuoli Io Vi do appuntamento A un prossimo video Perché ragazzi Mamma mia Ah Aspettate Al prossimo video Ragazzi Lo dico già qui in anticipo Una reaction Incredibile Perché il 21 maggio Esce il singolo Dei Nugruish Del nuovo Alvuv Che ragazzi Che ne parleremo In realtà Nel prossimo video Poi vi aspetta Il 21 maggio E già E il 22 Ne faremo anche un altro Non de Non è di una band metal Ma ben di una band folk rock Che vi ho portato la vota Sul canale Che si sono esibiti Alla fiera d'agricoltura L'anno scorso Sto parlando Di una band Che conosco io Poi ve lo scoprirete Perché nel prossimo video Vero di no Ragazzuoli Seguitemi tutti i link Dei social Che trovate tutti i link In iscrizione Vi lascio i link In iscrizione Per seguire anche Powerwolf Il mio amico Nicolò Florida Vi lascio i link In iscrizione anche Di tutto e di più Anche al link Di MP Italia Per ordinarvi Per ordinarti quel disco Ragazzuoli Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzuoli Dal vostro Solgare Romana 3 Mi raccomando Leaderfire Grandi eh Ci vediamo al prossimo video Maglio Ciao a tutti